Partirà dalla prossima settimana al Botteghino e sul circuito Viva Ticket la vendita degli abbonamenti per la prossima stagione del Calcio Foggia che segnerà anche il ritorno sulle maglie rossonere dello storico stemma dei Satanelli. I prezzi dei tagliandi vanno dai 700 euro della centradissima, i 230 euro della Tribuna Est e i 120 euro delle cube. Previste agevolazioni per la Tribuna Est si infiamma e due adulti più bambini pagheranno 440 euro, due adulti più bambini hanno pescato, Lorenzo Pestolo adulti 640 euro e l'abbonato inoltre non girerà quest'anno alla giornata di Viva Leofanto fino al 30 giugno 2023. Con il club della Nera Azzurro il fantasista il mercato che proprio in questione sta segnando la maglia della formazione Primavera 1 al termine della stagione 2021 della Foggia a Canovico in occasione della conferenza stampa di presentazione della campagna abbonative. Piaccio oggi potrebbe essere il giorno buono anche per l'Anna e Diego Peralta o un'esterno offensiva per il cuore dell'Anna. Mancherebbero solo per l'Umbri il Foggia a Ciacchia di ottenere anche il centrocampista Salzano che assieme all'acquisto di Oggià è deciso a convincere il mister Boscaglia a rimanere. Però si sta delineando insomma il terreno anche per il Tessino Luca Staneca a Tegola per giocarsi la commuzione inserbita. Quanti sono i contenuti?